Marco, vincesse Trump le cose potrebbero cambiare, non è vero che Putin predilige fino in fondo Biden, però essendo meno asimmetrico di Trump forse può prevedere le sue azioni, cosa pensi? Putin ha detto che per lui è preferibile Biden perché è più prevedibile e credo che non l'abbia detto ma pensi che è anche più stupido si è andato a infilare in questo cul de sac della guerra in Ucraina nella convinzione che nel giro di pochi mesi avrebbe non solo sconfitto i russi ma sarebbe cambiato il regime a Mosca, questo disse in un famoso discorso in Polonia, ha sbagliato tutti i calcoli come Netanyahu sta sbagliando tutti i calcoli in Medio Oriente, sono due sintomi della stupidità dell'Occidente che non si rassegna al tramonto dell'impero e della centralità americanocentrica quindi io penso che all'Europa, l'ho già detto, convenga un presidente isolazionista cioè che ritira gli interessi americani nelle zone calde evitando di arroventarle ulteriormente quindi credo che all'Europa, soprattutto se l'Europa vuole darsi una difesa e una politica estera comune, convenga che gli Stati Uniti ritirino i loro interessi e anche i loro soldi in modo che così possiamo farci l'esercito e tra l'altro risparmiare perché fare un esercito europeo costa meno che fare 27 eserciti europei come adesso quindi sì, io credo che è un'elezione nella quale non si può dire che sono tutti e due più o meno uguali. Per noi europei ci sono molte più opportunità se vince Trump che non se vince Biden, se poi farà dei danni agli americani a fare loro.